In questo periodo di relativa tranquillità arriva sulle console next-gen di Sony e Microsoft la Definitive Edition di Tomb Raider, un remake in altissima definizione dell'action-adventure uscito lo scorso marzo su PC e console all-gen. Il pacchetto include tutti i DLC dedicati al multiplayer, ma l'avventura resta quella di sempre. Questa riedizione quindi è indirizzata soprattutto a chi non ha ancora affrontato la nuova avventura di Lara e vuole godersela su un hardware più performante. La Definitive Edition di Tomb Raider vi metterà subito di fronte agli evidenti miglioramenti grafici che rappresentano sostanzialmente l'unica differenza di rilievo rispetto all'episodio regolare. La maggiore potenza di calcolo delle console di nuova generazione ha permesso agli sviluppatori di includere anche su console feature grafiche inedite o precedentemente appannaggio esclusivo della versione PC. Tra queste ultime, quella colpire immediatamente l'occhio del giocatore è quella garantita dall'utilizzo della tecnologia 3SFX, in grado di governare la foltachioma di Lara in modo più realistico che mai. Ridefinita anche l'illuminazione, che ora è in grado di ricreare fedelmente sudore, sangue, fango ed altri effetti speciali sul modello poligonale di Lara. La nostra protagonista comunque non è stata l'unica beneficiaria delle attenzioni degli sviluppatori, come ci ha dimostrato il maggior dettaglio con cui anche le ambientazioni sembrano essere state ricostruite. La definizione a 1080p nativa, infatti, ben si sposa con l'innendita illuminazione fisica, tirando a lucido le ottime ambientazioni conosciute nella precedente versione del titolo Crystal Dynamics. Resta vero che in fatto di quantità poligonale, Tom Brader non riesce a rivaleggiare con le esclusive viste su PS4 e Xbox One, e che in più di un'occasione la natura cross-gen della produzione si fa sentire. Va registrato anche qualche calo di framerate. Nelle intenzioni di Square Enix e Crystal Dynamics, questo Tom Brader ha voluto rappresentare una ripartenza integrale della saga, un titolo che tenesse conto delle nuove conquiste del genere, ma che non dimenticasse la sua eredità. Anche se molti giocatori non sembrano aver apprezzato la presenza di scalate troppo simili a quelle della serie Uncharted, e quindi sempre e comunque guidate automatiche, l'estensione delle ambientazioni ed un interessante e ben dosato backtracking fanno molta differenza nell'economia di gioco. L'isola in cui Lara si trova intrappolata è divisa in macro-sezioni, al centro delle quali si trovano delle aree discretamente vaste. È proprio in queste zone che si riscopre tutta la potenza della vocazione avventurosa di Tom Brader. Il level design riesce a catturare soprattutto i completisti, portandoli ad esplorare con ansiosa curiosità ogni anfratto. L'impasto funziona non solo grazie ai numerosi collezionabili, ma per la presenza di una componente survival molto importante. Nelle ambientazioni ci sono materiali di recupero che Lara può accumulare per migliorare il suo equipaggiamento, e acquistando esperienza Miss Croft sarà in grado di sbloccare varie abilità. Le risorse permettono a loro volta di migliorare tutta la strumentazione dell'archeologa, rinforzando ad esempio il telaio dell'arco per permettere a Lara di tenderlo con maggior forza. Ovviamente non mancano gli scontri armati, tutto sommato ben implementati. Lara si ripara infatti dietro gli oggetti in maniera totalmente automatica, senza necessità di premere tasti. Quello che più conta è però il feeling da sempre crudo e diretto delle sparatorie, che generano momenti abbastanza sintetici e crudeli. Questa Tomb Raider, insomma, anche al netto di qualche aspetto un po' troppo abusato negli adventure degli ultimi cinque anni, funziona ed ha un suo equilibrio, che non è rovinato dal passaggio generazionale. Forse il fulcro dell'esperienza sta proprio in questa costante ossessione per la raccolta di risorse, componente fondamentale del gameplay che incentiva l'esplorazione attenta e puntigliosa delle aree di gioco. Oggi come un anno fa il sistema funziona e riesce a convincere gli appassionati del genere. L'edizione definitiva di Tomb Raider non è uno di quei pacchetti completissimi e pieni di extra a cui non si può dire di no. Le novità sono solo grafiche e nel caso in cui abbiate già vissuto l'avventura di Lara potrete fare a meno di considerarne l'acquisto. Se invece non vi siete ancora avvicinati al titolo Crystal Dynamics, troverete un adventure che funziona, recuperando alcuni aspetti di Uncharted e con generi, ma riuscendo a collocarsi in una posizione intermedia, che cerca di mediare fra l'esigenza di una spettacolarità cinematografica ed un senso di libertà che si focalizzi sull'esplorazione, sulla scoperta e sul mistero.